Il nuovo numero di Basilicata Regione Notizie è online sul sito web del Consiglio regionale. Due le sezioni della rivista. La prima, Viaggio tra le norme, pone l'attenzione su due provvedimenti legislativi di grande impatto sociale. Quello riguardante il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari, l'iniziativa del consigliere Rosa, e quello che detta misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico dei consiglieri Romaniello, Galante e Pietrantuono. La seconda sezione, dal titolo Basilicata Cultura, contiene una serie di approfondimenti a cura di Giovanna Catullo sulla scommessa dell'uva biologica nella collina materana e di Antonio Affuso sulle prime forme ceramiche nella Basilicata preistorica. Nicola Montesano, invece, descrive i processi storici e gli sviluppi urbani della Rabatana di Tursi, mentre Antonio Capano illustra il culto di Artemide Diana nella Lucania Antica. Nunzio Festa parla del musico Vivaldi e delle sue origini lucane, mentre Cristoforo Magistro racconta la storia di Elio, un omosessuale confinato politico nell'epoca fascista. Nicola Arbia, infine, traccia il profilo di Salvatore Bologna, medaglia d'oro al Valor Civile, e di Vincenzo Cirigliano, un fante di Cassonuo Sant'Andrea che aveva combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco-albanese. Grazie. Grazie.